Con tutte le problematiche poi, perché uno va al marciapiede e quell'altro, sai, il problema dei marciapiedi, parliamo una volta tanto, abbiamo 300 km di strade, se moltiplichi i marciapiedi devi 350 veramente, se moltiplichi i marciapiedi che sono doppi vuol dire 700 km di marciapiede, quando avevi fatto il 20%, hai fatto 140 km, non hai fatto niente, perché su 750, quando hai fatto 150 km di marciapiede, e allora adesso, ripeto, abbiamo cominciato a mettere dei soldi importanti, ho parlato con Everest, che ripeto è un ragazzo veramente molto in gamba, 6 milioni metto adesso e 6 milioni li mettiamo subito con la prossima variazione, per cui bisogna asfaltare la città, questo sì, anche perché nel frattempo con questa banda larga, hanno fatto buchi dappertutto, fognature, bisogna mettere questi pozzetti, non solo delle fognature, ma anche delle varie ditte, team, telecom, eccetera, chi più ne ha, più ne metto. Ieri vado al bivio, credo che mi sono confrontato con la sovrintendenza, con il demanio dello stato, ma fatemi commissario per riempire un buco, poi alla fine c'era da fare, un pezzo di muro e un buco, roba da due settimane, infatti rosso, adesso credo che questi giorni qua apre, sono passati 6-7 mesi, basta, basta, non ne posso più, difatti ho detto quello delle pietre là, o mi togliete queste pietre, o mi date la possibilità di, o se no veramente asfalto e via, e dopo vediamo cosa succede.